Bole, 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 bo fa il tacchino, qua, 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 all'occhetta, ci, 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 ci fa il pulcino, e di noi che cosa sarà, se il grande di i violini sta, che sono sempre in funzione... E' permesso? Avanti! Venite avanti! Buongiorno, Vildici! Buongiorno, signori, io sono il conte del Paraglionte, lei è la contessa de Boadet. Oh, contessa de Bidet, che piacere, immenso piacere. Ma de Boadet, s'il vous plaît! Ma scusate, voi chi siete? Noi siamo una famiglia nella Bratta. Oh, nella Bratta? Oh, poverini! Nella Bratta le ho cognome della famiglia, cosa l'ha capito? Oh, scusate, buona gente, se abbiamo abusato della vostra gentilezza, ma stavamo passeggiando in carrozza nei vostri dintorni quando abbiamo chiesto al cucchiere di fermarsi immediatamente, in quanto è raggiunto alle nostre nari un intenso affrore di buon cibo. Ma state desinando? No, no, abbiamo già fatto... Cosa fa stamattina? A settore? Puntuale! Sì, sì, tutti quanti stamattina, tutti fatti. Ma cosa avete capito? Io dicevo desinando. Desinando vuol dire mangiando. State mangiando, non è vero? Eh sì, stiamo proprio mangiando, non lo vede. Abbiamo già mangiato i panzotti, il coniglio. E ora, se mi permette, mangio un po' di pulo ruspante. Sì, sì, c'è pure il pane fresco, appena sfornato. C'è anche una buona formaggetta di pecora. Guarda Mario Vittoria, che pane scuro! Ma è scuro perché abbiamo usato la farina integrale di segale. Fa bene all'intestino e all'aggetto un po' a nà. Ma questo è il mangiare che diamo alla nostra servitù? Ma noi siamo abituati a mangiare altri cibi, caviale belughe, ostriche e bere champagne. Voglio assaggiare un po' di vino? Senza solfiti? Ma che cos'è? Sangue di bacco? Un bacco che fa sangue? Ma hai visto? Senti io. Questo sangue di bacco? È divino. Vero rosoglio. È tutto eccelso. Che buono! Scusate buona gente, ma dove si possono comprare tutti questi cibi eccellenti? E voi chi siete? È tutta roba che arriva da un'azienda agricola, l'azienda agricola targanese di Brugnato. I prodotti sono buoni, ha la capacità anche di saperli fare, ma soprattutto sono genuini. Poi questi prodotti li potete acquistare in tutti i nostri punti vendita, prodotti naturali. Potete venire in un'azienda che ha Brugnato oppure nei punti vendita che abbiamo un po' sparsi in tutta la regione. Abbiamo due punti vendita a Genova, uno in via Chiossone, l'altro a Nervi in via Oberdan. Poi abbiamo un negozio anche a Chiavari in via Rivarola 22. Abbiamo un punto vendita anche a Spezia, in Piazza Cavour, Piazza del Mercato. Un punto vendita a Monterosso, in via Roma. E poi frequentiamo tutti i mercati dei produttori. E quindi li potete approvvigionarli con il meglio credito. Se vuoi una cosa buona, senza pretese, a Nea Brignè, da Targa, Agnese. Edoardo, chi ama il cocchiere che porti la carrozza perché voglio andare a Chiavari subito a comprare questi cibi eccellenti. Ma cara, di tutto questo caviale che abbiamo preso cosa lo facciamo? Ma lo diamo alla nostra servitù.